Ciao animali! Oggi è un disegno facile per tutti. Tiriamo una bella riga storta, mettiamo la pancia ed ecco la balena. Protuberanza per la testa e le diamo un minimo di dignità facendo la cosa. La bocca chiusa e arrabbiata, oggi di plankton ne mangiate abbastanza. Mettiamo anche due pinne canoniche, leggermente in prospettiva. A sto punto vi tracciate due contorni, quelli che per voi hanno senso. Alleggeriamo con la gomma pane e si inchiostra. Qua vi consiglio di andare leggermente frastagliati, sia per richiamare un po' la forma della balena, sia perché altrimenti sembra un po' una supposta. Poi acquerrellata rapidissima, un colore solo, in sto caso un indaco. Non c'è nessuna logica incredibile, questa balena fatela un po' più come viagrava e divertitevi con i cetacei.